oggi voglio parlarvi del modello delle quattro domande di base è un modello semplicissimo che come dice il titolo contiene solo quattro domande e conseguentemente viene utilizzato quando all'inizio diciamo di un percorso si cerca di capire quali possono essere i problemi ma soprattutto le opportunità sul tavolo parto da un presupposto parlare di strategia può essere fatto in due modi o guardando il lato sinistro del cervello o guardando il lato destro molti pensano che la strategia sia una materia tipo gli scacchi no quindi qualche cosa di logico e semplicemente di analitico rispetto alla situazione il che è parzialmente vero la stragrande maggioranza dei libri di strategia in particolare di strategia aziendale infatti hanno questo approccio che è un approccio tipicamente occidentale razionale e soprattutto anglosassone altri pensano che si debba sviluppare anche l'altro lato del cervello io sono tra questi e ritengo che quindi anche la parte destra quella emotiva possa essere sviluppata da alcune domande vediamo allora come si può con un semplicissimo modello affrontare qualsiasi vostra discussione partendo da un'analisi articolata sulla parte sinistra cioè logica e sulla parte destra cioè invece emotiva voglio partire oggi dall'analisi delle due prime domande da farsi per la parte analitica le prime due domande sono le seguenti domanda 1 che cosa stai facendo al momento la domanda 1 che cosa stai facendo al momento significa la fotografia della situazione in termini aziendali significa guardare il bilancio per esempio e avere una fotografia del bilancio su alcuni indicatori fondamentali che di solito vengono definiti reddituali patrimoniali e finanziari la fotografia quindi del momento è il punto dal quale partire non soltanto da un punto di vista bilancistico naturalmente la seconda domanda è come va questa situazione comparata ai tuoi competitor la seconda domanda pone invece un'analisi diversa dice ok questi sono i tuoi numeri la vendita il fatturato le quote di mercato la capacità produttiva ma quello che conta la competizione e quindi la seconda domanda di base è come vai se ti confronti rispetto agli altri quindi se usiamo due parole devo usare l'inglese positioning e benchmarking questa è la prima parte del modello si chiama parte analitica nella prossima puntata vedremo la seconda parte grazie